bene buongiorno scusate ma un momento di grande allergia quindi sarà complicato allora quello che faremo oggi sarà di riprendere da dove siamo da dove abbiamo lasciato nello scorso video nello scorso video abbiamo introdotto l'idea di architettura client server in particolare da lì ci siamo spostati su un'ontologia del server che ne dettagliasse gli elementi costituenti e abbiamo osservato come in qualche modo una sorta di punto di partenza obbligato e importante fosse la relazione che si stabilisce tra una sindef e un sint allora riassumendo il server è fatto di un insieme di componenti controllabili autonome anche se ovviamente tra le quali possono essere configurate diverse relazioni l'idea è che io ho a disposizione delle sindef che sono dei progetti per dei sint come fossero scritti su carta le sindef vanno caricate sul server una volta che le sindef sono disponibili io posso costruire dei sint cioè degli strumenti veri e propri ovvero sia dei pezzi diciamo così di codice che vengono eseguiti in tempo reale e queste sindef nella loro descrizione sono costruite da un grafo di Ugen cioè sono descritte dalla interconnessione di pezzi di base unità di base che si chiamano Ugen che sta per unità di generazione i segnali in super collider sul server si scrivono su dei bus che sono delle vie di comunicazione come delle tubazioni l'altro elemento che ci interessa è che posso anche avere delle quantità di memoria statica che possono essere utilizzate da questi sint che si chiamano buffer allora sindef quello che noi dobbiamo fare quando vogliamo fare del suono in tempo reale e controllarlo è uno scrivere una sindef e spedirla al server due costruire il sint tre controllare il sint in tempo reale attenzione io dico il sint per semplificare ma è i sint cioè ne posso avere un numero sterminato che viaggiano in parallelo allora facciamo l'anatomia di una sindef come è fatta questa sindef? allora intanto io sono già partito con il server per evitare problemi interni di connessione scusate oggi sarà difficile e la mia sindef si scrive così non assegno a variabile se vi ricordate l'idea è che io la prendo la compiro e la carico cioè quello che succede è che io costruisco la mia sindef la mia sindef viene mandata all'interpreter la compila nel formato opportuno per il server e la spedisce quindi io non la manipolo sul lato linguistico allora quando devo costruire una sindef ho bisogno di passare almeno due parametri uno è un nome simbolico che è il nome del progetto attraverso il quale sarà riferibile sul server e il secondo è un grafo di Eugen cioè una funzione che descrive questa relazione tra componenti allora ad esempio io potrei fare oggi mi sa che sarà difficile il momento di suspense potrei utilizzare vediamo una versione minimale notate che quando costruite una sindef vi conviene sempre di solito utilizzare la classe costruttori dei parametri del costruttore e far chi aggiunge una bella head così non ve lo dimenticate allora questa è probabilmente la sindef minimale la sindef minimale della sindef minimale sia in termini di struttura interna che di scrittura perché di scrittura di struttura interna perché intanto come vedete le Eugen che qui sono rappresentate in quanto classi in blu questo ci permette tra l'altro di vederle piuttosto bene in generale all'interno delle sindef le Eugen sono solo due cioè out e sinos e per di più qui praticamente non scriviamo nulla qui c'è un errore questa corretta scriviamo cioè il numero minimo di parametri allora se io valuto questa ho una sindef e posso dire che x variabile caso è un sint di tipo sine faccio nient'altro e parte la mia sinusoide c'è un modo utile per rappresentare una sindef e magari anche per progettarla prima di scriverla beh un modo utile c'è adesso proveremo a improvvisare graficamente e l'idea è che io potrei potrei sostanzialmente ragionare così questo è un software per il disegno e l'idea è che io posso costruirmi questo grafo di Eugen allora che cosa abbiamo fatto questa è fondamentalmente una Eugen questa è la nostra Eugen Sinosk la Eugen Sinosk la rappresentate in maniera unitaria con un oggetto e io qui l'ho rappresentato con questa forma che spesso viene utilizzata ovviamente la forma arbitraria ed è un generatore allora la domanda che potrebbe sorgere è quali sono i parametri di controllo di Sinosk sono abbastanza intuitivi ma è chiaro che per conoscerli uno va semplicemente sull'help file allora sull'help file come notate quello che succede è che per ogni Eugen c'è una scrittura c'è un help file di questo tipo che vi fornisce il nome una descrizione sintetica una descrizione che è quella che vedete qui sotto in corsivo una descrizione più precisa che riguarda in questo caso il metodo di generazione sul quale in questo momento non mi voglio fermare i metodi di classe e ci hanno solo metodi di classe le Eugen e sono tipicamente AR e KR e qui come notate gli argomenti che ci servono per capire quello che possiamo controllare allora notate che tra l'altro qui in fase di in fase di un po' di problemi di segnazione di descrizione degli argomenti avete anche un aspetto importante che è il valore di default che prendono questi argomenti per le Eugen questo vale per tutti gli help file però l'idea è che nelle Eugen è particolarmente interessante vedere quali sono gli argomenti di default che poi tipicamente sono molto spesso gli stessi allora come dicevamo 440 è la frequenza fase 0 mul 1 add 0 bene a questo punto se io volessi rappresentare questo blocco come posso fare beh allora l'idea è piuttosto semplice io ho detto che i miei parametri sono frec ed è 1 un parametro quindi finirà qua ed è un ingresso chissà se riusciamo a farlo uno qua l'altro parametro sarà evidentemente adesso bisogna editarlo abbiamo detto phase se la faccio phase è il secondo parametro e sono tutti ingressi dentro il mio la mia ugen poi ho un terzo parametro che è mul e un quarto parametro che è add quindi questa è in qualche modo questa che vedete rappresentata non molto bella ma non importa è la struttura la struttura della mia ugen struttura della mia ugen che cerchiamo di condurre a una forma un po' graficamente più sensata che io non uso questo software di solito quindi non sono proprio scafatissimo diciamo è un software storico che io non ho mai utilizzato non è male allora questa è un po' l'idea l'idea di fondo rimettiamoci le etichette questa fa un po' abbiamo visto cose più belle diciamo graficamente non importa allora questi sono i nostri quattro i nostri quattro parametri e il punto è che questi parametri devono avere sempre un valore e questo valore ce l'hanno di solito perché hanno un valore predefinito un valore di default e che quindi abbiamo detto essere e potremmo anche modificarlo se ci riusciamo vediamo un po' potremmo dire quindi che frec è 440 che phase è 0 adesso poi mettiamo a posto mul 1 fare i precisi 1.0 e add 0 e quindi questa è la situazione iniziale questa è la situazione iniziale è situazione iniziale della nostra iugen bene allora che cosa succede che cosa succede in questa scrittura questa è una scrittura compressa giusto quindi che dobbiamo seguire che dobbiamo seguire nella sua costruzione allora la riprendiamo qui e la riprendiamo qui e se vi ricordate nello scorso video abbiamo visto una forma più prolissa di questa scrittura che però non cambia assolutamente nulla ma che forse è più leggibile a fare diciamo così i precisi allora cosa c'è scritto qui è esattamente quello che c'è scritto nella parte prima non cambia niente a livello di descrizione del grafo delle iugen semplicemente che nel terreno di questa funzione io ho una variabile sin a cui viene assegnato che cosa quello che viene restituito dal messaggio a rinviato a sin e che cos'è un messaggio cosa dice un messaggio r o kr inviato a una ugen genera uno stream di valori un flusso di valori cioè funzionante in tempo reale in tempo reale il sint a partire da quella ugen genererà una sequenza di valori questa sequenza di valori viene etichettata cioè assegnata a una variabile sin che quindi contiene questa sequenza di valori calcolati out invece è una variabile che vale 0 e vale sempre 0 quindi c'è una differenza nel senso che are un flusso che viene aggiornato aggiornato a tasso audio mentre out è una costante vale 0 dopodiché quello che succede è che io ho un'altra ugen questa ugen out mi permette di collegare il flusso di valori un certo flusso di valori di scriverlo tecnicamente su un certo bus cioè di connettere una sorta di raccordo ad un certo bus qual è il bus è dichiarato da out cioè 0 e che cosa butto io su questo tubo butto sin cioè il flusso di valori di campioni calcolati da sinos appunto a allora allora se io dovessi rappresentare abbiamo detto che una la funzione del grafo delle ugen descrive un grafo di ugen ma quali sono i nostri elementi di questo grafo beh allora abbastanza intuibilmente voi potreste avere un altro blocco che analogamente quanto abbiamo detto prima a questo giro si chiama out si chiama out e si chiama out abbiamo detto e out che parametri ha allora andiamo a vederli di qui e vi ricordate sono due cioè bus e channels array dove bus indica il tubo a cui mi voglio raccordare e channels array invece sostanzialmente poi lo vedremo più nel dettaglio ma vuol dire il flusso di dati audio il flusso di dati in realtà in generale che risulta da r o kr che io voglio routare diciamo instradare instradare su questo tubo allora out tra l'altro va pensata come una sorta di effetto di raccordo cioè tutto ciò che sta prima sta dentro il nostro tutto ciò che sta prima tutte le altre ugen in qualche modo stanno tipicamente dentro il mio macchinario cioè dentro il mio synth a un certo punto uno trova un pezzo out che cos'è questo pezzo out questo pezzo out funziona fondamentalmente come un raccordo che aggancia ciò che viene calcolato dentro il synth con un bass allora tipicamente lo noterete che lo troverete sempre al fondo delle delle synth e di conseguenza dei synth ma in realtà io lo posso mettere dove mi pare è una sorta di apertura o se volete tubo di raccordo verso l'esterno che a un certo punto in strada il segna un certo segnale lo viene in strada verso il sistema dei bass allora i suoi argomenti sono out sono bass e channels array e io potrei iscrivermi qui quindi saremo io qua ho bass e bass non ce l'ha un valore predeterminato ce l'ha non ce l'ha e channels array neanche quindi notate che in questo caso siccome non avrebbe molto senso non ci sono valori pre calcolati io lui lo metto qua tiro una freccia che vada di qui e si agganci auspicabilmente qui l'altra non sono vincolati no peccato l'altro mio argomento invece abbiamo detto che channels array channels array lo metto qua e siamo così ora qui abbiamo fatto la descrizione delle due ugen della nostra sindef minimale il problema è che relazione hanno beh allora la relazione se notate è specificata in questo modo allora per scriverla ancora in maniera più più prolissa in un modo che non troverete mai la potremmo scrivere così bus e questo è channels array allora qui semplicemente quello che abbiamo fatto è stato di specificare non si vede ma bene perché mi sposto io faccio prima a spostare questo ho utilizzato le keyword per essere molto chiaro cioè ho detto che cosa prende come valore l'argomento la cui keyword bus out che cosa prende l'argomento che ha come keywords channels array sin quindi ho specificato che qui dentro qui dentro ci metto sin notate che c'è una differenza in un caso nel caso di out io metto un valore diciamo così costante un valore fisso mentre qua io gli dico che quello che deve essere il valore che deve prendere channels array dipende e un flusso un flusso di dati che vi è aggiornato a un certo tasso qui il tasso audio allora se finite qui e vi ricordate la sin l'idea che channels array prende sin ora dal punto di vista diciamo così linguistico io potrei anche rappresentarlo così se volete cioè che tutto questo butta fuori il valore scrive la variabile sin e qui potrei no devo far così potrei e qua abbiamo detto che il valore in questione di bus è 0 se ce la faccio si bus 0 pensate alla nostra sin questa è l'idea no questo viene scritto su sin e channels array prende sin allora questo però non è il modo in cui si scrivono i diagrammi di flusso perché l'utilizzo della variabile sin è un utilizzo diciamo così linguistico descrittivo ma dal punto di vista del flusso dell'informazione banalmente non ha alcun senso che io faccia questo ha molto più senso che io faccia così beh volendo posso fare questo e vediamo un po' se riesco a spostare i miei amici eccoli qua questa è l'idea cioè fondamentalmente potrei tagliare questa freccia e questo mi finisce qui lo rappresento così dunque 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 ad esempio la freccia qui l'ingresso le mie keywords rappresentano i nomi dell'ingresso questo è channels array allora questo è diciamo diagramma di flusso che rappresenta quello che noi abbiamo voluto esprimere l'abbiamo espresso in diversi modi assegnando una variabile se guardate in termini di in termini di prolissità la prima è la più compressa cioè semplicemente dichiara out e passa come argomento zero e ciò che verrà restituito da sinus car che è un flusso di dati nel secondo caso gli dice dichiarare un nome di variabile e qui passare esplicitamente la variabile mentre la variabile out è stato dato un valore zero nel terzo caso è come il secondo ma io ho voluto specificare i nomi degli argomenti cambia nulla cioè il grafo delle ugen cioè il flusso dell'informazione è esattamente lo stesso potete scrivere come vi pare scrivete nel modo che in questo momento vi risulta più facile più semplice concettualmente di solito inizialmente è più facile scrivere in forma 2-3 per capirci cioè nella forma più prolissa la maggior parte degli esempi in super collider sarà in questa forma cioè una forma in cui sostanzialmente voi dovete andare dentro e estrarre per tornare indietro cioè andate a finire dentro out e dite ah ok out zero cosa finisce su out zero questa roba qua questo poi a sua volta potrebbe avere altri parametri e quindi potreste riapplicare la stessa logica qual è cosa come si chiama la logica che vedete espressa in questi termini ma di solito in computer music in generale si chiama patching cioè l'idea è che io che deriva dall'ambito analogico faccio il patch di un'uscita patch si scrive P-A-T-C-H faccio la connessione di un'uscita di un certo modulo componente con l'ingresso di un altro modulo componente si chiama patching che tra l'altro patch vuol dire anche cerotto l'idea che è aggancio in qualche modo in filo la logica di base che dovete pensare che in termini analogici questi di solito sono dei moduli fisici dei pezzi elettronici di ferro e si esce con dei cavi che collegano un modulo con l'altro le frecce le pensate come dei cavi che permettono la connessione tra più moduli allora la logica del patching è esattamente la logica della connessione che vedete rappresentata nella funzione che descrive il grafo delle Eugen che cos'è il grafo delle Eugen è esattamente una connessione varia di diversi tipi di pezzi allora ognuno di questi pezzi si chiama Eugen ogni Eugen ha un insieme di argomenti che di fatto sono pensabili praticamente sempre come degli ingressi possibili per valori questi valori possono essere diciamo così delle costanti o comunque dei valori impostati a un dei valori impostati diciamo in maniera puntuale come qui bass zero come nel nostro caso qui i valori di default ma come notate succede una cosa interessante in questa operazione succede che qui un flusso audio viene utilizzato come valore attribuito a un certo argomento di controllo appunto logica del patching questa logica è molto generale e come vedete può essere descritta linguisticamente anche in modo diverso che però esprime esprime nella Eugen Graph Function esattamente la stessa cosa quindi probabilmente vi conviene iniziare in maniera più dicevamo prolissa verbose come si suol dire e poi andare a una logica più compatta ora quest'idea quest'idea del patching è interessante tuttavia attualmente il nostro strumento è un po' diciamo così una noia mortale perché è una noia mortale perché è una sinusoide a frequenza fissa parte si può mettere in pausa si può distruggere e non si può fare nient'altro ne potremmo fare volentieri a meno allora l'idea che io potrei guadagnare controllo su questo oggetto è il modo in cui guadagno controllo sull'oggetto è un modo che in qualche modo è implicitato all'interno dell'oggetto diciamo dell'espressione linguistica che lo descrive eugen graph function questo è ciò che esprime la costruzione interna della sindef ok notate bene che non c'è nessuna funzione sul server cioè questa è descrizione linguistica quando io dico add questa viene compilata e spedita il server di funzioni non sa nulla legge il suo formato interno ma io lo posso descrivere attraverso attraverso una using graph function allora una funzione come si controllano gli ingressi e le uscite di una funzione beh gli ingressi le uscite sono ciò che viene restituito e ciò che viene calcolato dalla funzione ma gli ingressi sappiamo che li possiamo controllare perché io posso passare degli argomenti alla mia funzione cosa sono gli argomenti beh gli argomenti sono esattamente gli argomenti sono esattamente dei modi in cui posso passare da fuori a questa funzione intesa come unità di calcolo dei valori li posso passare fornendo loro dei nomi simbolici se vi ricordate la funzione che descriveva il teorema di Pitagora io avevo degli argomenti mi pare di averli chiamati cat1 e cat2 e questi potevano avere valori variabili all'interno della funzione attraverso cat1 e cat2 io facevo riferimento ai valori che venivano passati da fuori allora la stessa cosa vale la sindef e la facciamo così veri verbose chi se ne frega a questo punto l'idea qual è? è che qua io posso avere degli argomenti avere degli argomenti vuol dire che questi i nomi che io passerò come nomi di argomenti ad esempio banalmente frq possono avere dei valori default come nelle funzioni ad esempio potrebbe essere 220 e a questo punto io potrei scrivere una roba di questo tipo che cosa succede in questo caso? succede che arg è un nome di un argomento l'argomento si chiama frq intuibilmente il nome fa riferimento alla semantica cioè io voglio passare da fuori al mio oscillatore che genera una sinusoide gli vorrei passare un valore per la frequenza perché almeno la sinusoide praticamente un parametro c'è da controllare almeno quello lo vorrei controllare frq uguale a 220 che è il valore di default e se io non passo nessun valore ad frq notate che qui quello che succede è che stavolta la frequenza viene cambiata e si prende il valore di frq allora se pensate all'idea di Synth come strumento che viene costruito a partire dalla nostra Synthef l'idea è che in questo caso inizialmente questo questo questa Synthef genera un sintetizzatore che si comporta come una scatola nera la quale una volta creata boom genera sinusoide a 440 Hz e non fa niente altro è una scatola nera non ha controlli io la guardo è una superficie liscia sto cercando un rotativo una manopola niente non c'ha nulla questa invece ha una sua forma differente è di nuovo la mia scatoletta nera che genera una sinusoide ma questa volta è una metafora ci siamo capiti questa volta io ho un'etichetta con scritto frq è una manopola con cui posso controllare questo valore frq allora la vicenda cambia un po' perché io posso perché io posso a questo punto modificare frq altro non posso fare ma frq lo posso modificare allora quindi che cosa fa frq controlla la frequenza della sinusoide allora quello che succede è che qui io freq non ce l'ha in realtà ho modificato la mia sindef e facciamo così ho modificato la mia sindef questa io la metto qua così io me ne resto sempre allo stesso posto qui ho modificato questa sindef in modo tale che questa volta beh questa volta ho un valore che arriva da fuori vogliamo rappresentare questo oggetto in un altro anche potenzialmente come dire in un altro modo qui avrò un problema esatto adesso lo devo spedire object ce l'ho send backwords no non riesco a farlo vorrei spedirlo all'indietro non si può fare allora ci sarà un trucco cerchiamo di farlo nel modo più facile possibile non ce la farò mai così forse ce la posso fare in fondo solo che sarà sotto solo che è sotto vabbè non importa allora l'idea l'idea è questa e che io qui questa è la logica la logica è questa qui cioè che io qui la mia se questo è il sint il progetto di sintetizzatore e lo pensate come questa con questa scatola nera lo pensate con questa scatola nera e l'idea è che a questo giro cioè a questa seconda implementazione io ho portato fuori un argomento che si chiama frq e allora frq è come dicevamo una sorta di etichetta che mi permette da fuori di controllare uno di questi parametri che entrano dentro il sint e quindi abbiamo detto come se io avessi un mio oggetto di metallo una mia scatoletta che questa volta si chiama sign e che però questa volta ha un'etichetta con scritto frq è una manopola che mi permette di controllare da fuori ragazzi allora qui io la invio non ho problemi e a questo punto quello che posso fare io è di generare un sint come prima questa volta la sua frequenza di default è 220 però qui guadagno di controllo perché io posso mandargli un messaggio set che ha come nome frq notate che il nome dell'argomento è 100 hertz mi piacciono i mille e qui notate che allora che cosa succede e beh succede che con il messaggio set io già mi diverto un po' di più perché io posso controllare il mio parametro quindi posso di fatto dire al mio sintetizzatore di modificare quel suo parametro che si chiama frq prendendo il valore che gli passo notate la sintassi questo diventa simbolo cioè x al simbolo frq simbolo perché non possono esserci più controlli che si chiamano frq quindi simbolo frq a seguire il valore numerico ora io ho usato frq apposta per evitare di confondervi però questa cosa bisogna capirla concettualmente in fondo l'abbiamo già vista ma è meglio ribadirla e uno dice ma come c'è scritto frq due volte qui come nome di argomento e qui da questa parte in realtà funziona esattamente come prima ora notate che adesso adesso se io usassi questo non succede nulla perché frq non è più definito qui sopra questo si chiama frq allora devo usare frq che è il nome dell'argomento quello che mi premeva farvi osservare è che qui frq è il nome dell'argomento mentre questa è la keyword cioè io qui sto dicendo che la keyword frq di sinosk quindi l'argomento che si chiama frq prende come valore prende come valore questo frq cioè sto attaccando all'etichetta frq di sinosk ciò che arriva da fuori dall'argomento frq ok lo vedete qui scusate allora se guardate il disegno scusate se guardate il disegno quello che succede è questo che ho semplicemente qui è molto chiaro ho semplicemente ridenominato lui cioè l'etichetta che sta fuori con il nome di freq e freq si aggancia a quell'altro freq quello della sinusoide uno dice ma non puoi usare frq così non ci confondiamo questo è vero però tre quarti degli esempi usano gli stessi nomi d'altronde l'abbreviazione standard per frequenza è freq quindi giustamente si utilizza in realtà la situazione non è per niente ambigua ve lo dico giusto per evitare che di primo acchito diciamo così la cosa sia vi possa confondere allora io ho passato un argomento ma una funzione evidentemente ha molti argomenti e allora ad esempio qui abbiamo un problema ma è possibile che non riesco a metterlo dietro ma send to back non ti piace send to back eppure no vedi che non lo prendo objects send to back sparano davanti dietro niente da fare allora spostiamo la scatola spostiamo la scatola e facciamo prima notate qui ad esempio notate che io qui ho mul fisso cioè mul che arriva ma perché no e add zero e mul è fisso allora se io faccio un'operazione di questo tipo potrei rappresentare quest'idea qui cioè io qui sto uscendo no l'idea era quella di uscire dal mio però questa va invertita la freccia vediamo un po' se ci riusciamo così se no tiriamo una freccia standard e lasciamo perdere niente non ce la possiamo fare migliorerò nella vita si migliora si peggiora anche ma si migliora anche allora questa potrebbe essere una rappresentazione in cui io l'idea qual è che controllo da fuori arg scusatemi controllo da fuori mul controllo da fuori questo valore che in maniera analoga a quello che succede a quello che succede per frec e allora come lo implemento ma in realtà in maniera molto facile come volete chiamarlo questo argomento io potrei chiamarlo mul ma in realtà diciamo così è un po' un'ampiezza quindi amp mi piace come valore io di default che cosa gli do in realtà se gli lasciate il valore default 1 lui spara sempre la manetta e spesso è un po' eccessivo allora infatti notate che molte volte l'ampiezza di default è addirittura 0.1 ricordatevi che questa è l'ampiezza lineare noi utilizzeremo 0.5 e a questo punto qui io però invece di prendere il valore di default devo dire mul amp e quindi qui ho due parametri collegati nella mia ugen controllabili da fuori ma io posso controllare solo i parametri di una ugen no perché posso controllare i parametri di tutte le ugen che ho dentro che ho all'interno del mio sintetizzatore e allora questo valore qua io potrei invece che assegnare la variabile qui io ce lo metto qua e dico out 0 adesso qui vado a capo così è un po' più ordinato out 0 a questo punto se notate non devo neanche cambiare il codice out è un argomento che arriva da fuori e finisce dentro il bus cioè l'idea in questo caso che io attraverso l'argomento out che è diventato argomento del mio sint vado a controllare direttamente l'argomento out della mia ugen cioè dove deve scrivere la mia ugen è evidente che i valori che potrà avere questo out saranno 0 1 2 eccetera cioè rappresentano degli indici dei bus su cui scrivere allora se vi ricordate abbiamo detto che i bus le uscite iniziano da 0 a salire se 0 al canale sinistro intuibilmente 1 sarà al canale destro allora vediamo un po' se questa è corretta vediamo che cosa succede intanto ne osserviamo la rappresentazione grafica questa è 0 togliamo sempre la nostra scatola questo il bisogna essere eccolo qui qui ci mettiamo un'altra riga e a questo giro però no bisogna fare così da fuori l'idea è questa e il valore che gli abbiamo assegnato resta 0 valore di default ovviamente questi due 0 rappresentano questo è sbagliato perché mul qui non è 0 scusatemi ma è ce la farò mai a selezionarlo si ce la posso fare ok 0.5 ok allora adesso quello che succede è che il mio sintetizzatore quando sarà creato si presenterà con un nome sopra con scritto una bella scritta serigrafata sign e avrà tre controlli uno che si chiama frec l'altro beh in effetti ho usato una scrittura omogenea adesso la usiamo amp che si chiama che ha come valore parte con 0.5 io lo sapevo amp 0.5 frec in realtà lo devo eseguire non c'è di quello si può arrivare no ma di qua si frec che abbiamo detto ha come valore non mi ricordo un po' l'incubo è sta cosa e dai allora eccolo qui frec che ha come valore non mi pare che si è messo 220 220 220 e finisce qui e questo qui e questo qui è il mio out 0 che ovviamente adesso perché ti sei spostato torno da me ce la possiamo fare ecco qua allora questa è come si presenta il nostro synth con tre etichette tre manopole etichettate da fuori che io posso controllare che cosa succede ad esempio beh ad esempio posso dire detta ciò io posso avere x synth sign poi posso dire x set out 1 e giro dall'altra parte sono saltato di canale preferisco stare di qua finisco di qui e avanti così oppure ovviamente x set la variabile a questo punto l'algometro si chiama amp e io finisco a 1 che è il massimo è a 0 1 e così via beh se li volessi controllare tutti un colpo solo potrei fare una cosa così li metto in una singola espressione in realtà in realtà c'è un metodo anche un po' più intelligente c'è questo ah qui ho sbagliato scusate ups non so dove sono finito ma sono sul sinistro va bene ha preso l'interno qui io metto sequenze di coppie sequenze di coppie vuol dire che questo vale 0 questo 200 ho nome dell'argomento valore nome dell'argomento valore qui adesso diventa 200 hertz e finisce sul canale sinistro allora a questo punto è chiaro che io posso controllare lo posso fare in tempo reale lo posso fare in tempo reale il mio sintetizzatore è chiaro che posso fare molte cose con il mio sintetizzatore perché una volta che guadagno le manopole da fuori allora queste manopole le posso usare a mano io via codice come sto facendo adesso però ad esempio potrei anche collegarle a un'interfaccia grafica allora banalmente io potrei avere che v è una windows eeeh rect 0 0 boh 200 per 200 front l'ho fatto una finestra che voi non vedete perché se l'altra parte dello schermo la trascino dopo beh posso anche trascinarla subito eccola qua tanto quando arrivo il codice esatto non si vede più poi dico che k è un rotativo e questo rotativo finisce agganciato a v e lo facciamo 0 0 e grande uguale e e fine e poi dico che k l'azione di k che è quello che mi serve che cos'è beh ad esempio io vorrei controllare il attraverso il mio rotativo vorrei controllare banalmente la frequenza vorrei controllare la frequenza e come la posso controllare la frequenza beh ad esempio io so che viene passato il rotativo quindi mi value rappresenta il valore del rotativo va tra 0 1 mi value lin lin ad esempio tra 0 1 che è la partenza e per dire tra 200 a vostra scelta 200 e 1000 hertz e questo è il valore che mi serve per fare che cosa beh ad esempio potrei chiamarlo varval intanto mi serve per controllare un synth e dov'è questo synth beh in questo momento non c'è quindi nel mio codice dovrei dire che x è un synth di questo tipo questo potrebbe essere il mio pezzetto di codice bene bene adesso x ce l'ho che è un sintetizzatore io voglio dirgli che x set mi hanno chiamato frec alla fine frec uguale val cioè l'idea qui è che io ho costruito un synth qui poi ho costruito una finestra poi ho costruito un rotativo e poi ho detto l'azione legata al rotativo deve prendere il valore del rotativo convertirlo tra 0 1 in hertz tra 200 e 1000 cioè 0 vale 200 e 1 vale 1000 a questo punto tutte le volte che c'è un aggiorn e la cosa che deve fare è impostare questo valore ottenuto come valore del argomento frec della using graph function di sine che è del mio synth che si chiama x che è di tipo sine quindi l'idea è che l'azione ogni volta che io aggiorno lo stato grafico viene valutata la coppia di espressioni cioè la dichiarazione di variabile che è una segna al valore è l'attribuzione x e quindi cambierà allora io adesso non lo eseguo tutto di fila perché questo in realtà l'ho già creato però ho bisogno di questo e poi ho bisogno di questo e andiamo a prendere questo rotativo vediamo che succede eccetera e quindi controllo i miei parametri sono stufato panic button è ovvio che io potrei complessificare la mia interfaccia grafica in maniera del tutto evidente associando diversi elementi diversi oggetti grafici a diversi controlli dei miei parametri e così potrei avere un bottone che ha più stati e che mette in pausa il synth così come potrei avere un bottone che ha due stati per lo stereo per passare da sinistra a destra e uno dice ma io vorrei stare in mezzo quello è un altro problema lo vediamo un'altra volta e io potrei controllare ovviamente con un rotativo che cosa il volume vado tra 0 e 1 e potrei andare tra 0 e 1 per il controllo della variabile qui nella nostra synth che si chiama amp quindi questo è il modo in cui ad esempio io posso associare posso associare sull'autogia ma così posso associare un altro fazzoletto posso dicevo associare interfaccia grafica controllo del synth ora questo è un tipo di controllo in realtà un secondo il primo lo controllo direttamente dalle espressioni nel secondo caso faccio la stessa cosa ma la imbrico all'interno di un la imbrico all'interno di un'interfaccia grafica che è utile dilettevole e nel in un altro caso potrei avere un controllo che è relativo a un certo tipo di processo temporale per cui siccome noi conosciamo le nostre routine allora vediamo un processo che controlli questo synth ovviamente assumo di avere un synth di questo tipo a questo punto dico che r è una routine la quale che cosa farà beh tanto per fare una cosa un processo che parta io potrei dire infinite volte fai qualcosa che cosa voglio fare ma ad esempio vorrei dire che x deve avere la mia la sua frequenza controllata in qualche modo non so ancora bene come e poi vorrei anche dire lo metto separato non perché così per pulizia concettuale che amp potrebbe avere un altro tipo di controllo e poi dico beh bisogna aspettare un po' perché se non si aspetta si blocca tutto allora dico ma 0 0.2.weight allora che cosa potrei voler controllare beh ad esempio potrei voler far variare il volume vorrei far variare il volume in maniera pseudo casuale allora dico che var amp è uguale a che cosa beh ad esempio ha un valore casuale tra 0.1 e 1 anzi facciamo tra 0.8 a questo punto io qui controllo e poi potrei dire che var frec invece sia un qualcosa che varia casualmente tra 200 punto rand e 1000 io mi premunisco di questo che mi può servire costruisco la mia sinusoide e la faccio partire ops ops frec deve essere frec in realtà stava funzionando riparte il sint una roba un po' così un po' computazione fantascienza di 50 il cervellone elettronico che sta calcolando quando io blocco la routine cosa interessante cosa succede che questo processo non avviene più quindi non viene più fatto variare frec e amp e dunque l'ultimo valore rimane costante allora notate che quando io ho fatto questo cioè è partita o ripartisse nel caso in cui ripartisse la routine notate che c'è un aspetto interessante per quanto il processo sia come dire non particolarmente esaltante ma sembra che io stia producendo delle note e cos'è una nota un evento io non sto producendo delle note sto semplicemente controllando a scatti a scatti sincronizzati tra amp schiava app è un dubbio amletico scusatemi si ok va a venire con l'ultima sent si sto semplicemente controllando a scatti blocco tutto a scatti l'ampiezza e la frequenza e quindi ho un passaggio ogni 0.2 secondi alla generazione di una sorta di nuova nota che in realtà è solo il controllo per cui la mia manopola gira di colpo da un valore di frequenza a un altro valore di frequenza e cambia anche amp ci sono due cose interessanti da osservare qui dentro e che se io voglio controllare questo oggetto elettronico funziona funziona così funziona come deve è potenzialmente interessante un punto però che vorrei farvi notare è questo cioè io sto lavorando con una prospettiva che è tecnologica e poco musicale e uno dice beh ma non bisogna opporre tecnologico musicale è vero però il controllo tecnologico del mio oggetto ad esempio delle Ugen tiene conto di che cosa delle frequenze ma io qui volevo generare degli eventi un po' di tipo notale eppure invece ho ragionato in termini di hertz e come sappiamo gli hertz non valgono uguali per la percezione perché nel registro grave pochi hertz valgono un sacco e nel registro acuto valgono nulla tra 5.000 e 10.000 hertz abbiamo detto che c'è un'ottava e quindi 10 hertz vale nulla e invece tra 21 e 42 hertz c'è di nuovo un'ottava e lì 10 hertz vale circa un quarto di questa escursione allora l'idea è che io potrei guadagnare in controllo con questa semplice sinusoide se faccio qualcos'altro cioè come si suol dire è dal controllo che si determina il comportamento non è che il comportamento in quanto tale è così allora le frequenze non sono un buon tipo di controllo musicale allora invece di avere frec qui e di ragionare in termini di hertz io potrei ragionare in termini musicali cioè vorrei andare 200 hertz tenete presente che il doc centrale è circa 260 hertz beh allora se io proprio avessi questa come escursione cioè qualcuno di compito metto guarda devi stare tra i 200 e i 1000 hertz allora potrei intanto indagare e pormi questo problema ma se 200 hertz in nota in nota quanto sono più o meno 55,3 notate che noi abbiamo ragionato in termini di nota di pianoforte ma la rappresentazione di per sé può avere una virgola cioè io non sono obbligato a ragionare con le note intere è una forma di conversione possibile quindi sono a circa 55,3 se io volessi ragionare in termini di note invece interi in questo caso allora qui potrei dire ma potrei voler scegliere tra 55 mi faccio un appunto e poi dico e invece sti 1000 hertz circa quanti sono 83 allora io potrei dire qua a questo giro che invece di fare frack dico scegli a caso tra 83 e scusatemi qua è 83 tra 55 e 83 qui questo valore che genererò sarà tra 55 e 83 ma non è in hertz ora le ugen capiscono solo degli hertz tutto il lato server è legato alla dimensione acustica tecnologica e quindi ragione in termini in quei termini in termini di hertz tipicamente guardate gli help file trorete sempre degli hertz bene se è così allora a questo punto l'idea che io qua il valore che esce di qui perché di qua viene restituito un valore questo lo devo convertire lo devo convertire e lo converto so come farlo dico midi cps guardate cps midi midi cps allora qui a questo punto quello che succede è che io pescherò cioè sparerò fuori un valore a caso tra 55 e 83 cioè un valore di nota intera sul pianoforte e poi lo converto in hertz e gli hertz li capisce il mio synth e quindi posso l'idea che in questo caso invece di saltare tra le frequenze una frequenza ogni 0-2 secondi quindi ogni quinto di secondo a caso in questo continuo in realtà io mi starò spostando sulle note del piano non è detto che sia quello che voglio però questa è un'opzione poi potrei però fare un ragionamento analogo per amp amp io lo sto facendo valere sto facendo valere una logica per cui pesca a caso sull'ampiezza lineare ma l'ampiezza lineare non va bene per controllare il volume infatti ci sembra che sono di tutto più o meno lo stesso volume ma noi ci aspettavamo invece in qualche modo avremmo potuto aspettarci un salto di volume significativo di questo amp allora intanto l'idea potrebbe essere questa ma non potrei ragionare in db cioè in decibel non sarebbe meglio ad esempio 0 anzi facciamo così 1 ampiezza lineare massima da ampiezza lineare convertita in db quanto vale? 0 e 0 invece da ampiezza lineare a db quanto vale? meno infinito quindi l'idea è che io mi muovo tra 0 a scendere per meno infinito se sono a meno 60 eh no scusatemi l'idea è che posso fare l'operazione evidentemente inversa non so questo che succede meno inf punto amp db eh no scusatemi db amp e infatti ottengo 0 e analogamente se io sono qua e dico 0 db amp 1 allora l'idea è che faccio una conversione cioè gli faccio scegliere tra qui invece che tra 0 1 e 0 8 che non ho idea di cosa succede dico ma scegli a caso tra diciamo così qual è la soglia inferiore spesso si usa meno 60 tra meno 60 usiamo la stessa logica che si potrebbe scrivere in maniera diversa è 0 e convertimi questa roba db amp allora diamo un'occhiata a quello che succede di qua vediamo se funziona dobbiamo mettere sì funziona 97 52 19 25 7 52 24 25 eccetera siamo stati un po' radicali questo meno 60 io sarei un po' meno mi avvicinerei un po' di più è uguale però giusto per avere dei valori ok a questo punto a questo punto io sto ragionando in termini di decibel e su mixer tra l'altro si ragiona solo in termini di decibel e sto ragionando in termini molto musicali in questo caso di frequenza vediamo un po' che succede qui è la nostra sinusoide dove ho perso il mouse vedete che abbiamo guadagnato di control chiaro che sto sempre sparando a caso ma sparo a caso su una tastiera ed è molto più diciamo così drammatica la variazione della ampiezza rispetto a prima perché sto ragionando in dB la logica è sempre la stessa in realtà è un'unica sinusoide che sta continuando a girare ma solo che cambia cambia a tasso regolare la sua questi parametri questi parametri di controllo ora ovviamente noi possiamo essere interessati ad avere un controllo strettamente in hertz e anche in hertz frazionari per dire ma quello che mi premeva dirvi è di farvi vedere come si aggancia come si aggancia il controllo dei synth con le dimensioni diciamo più musicali che abbiamo visto per quanto rapidamente precedentemente che sono proprie della composizione algoritmica allora allora ad esempio io potrei dire io ho un intervallo di 12 e vorrei prendere questo intervallo di 12 12 semitoni e dico size vorrei ad esempio fare una scala di 17 semitoni parto da 0 e devo avere un passo che è 12 17 che cosa faccio qua c'ho l'idea che io prendo la mia ottava perché midi ragione in termini di ottava è che cos'è 1 in midi notazione midi è un gradino allora io ho la mia scala ma da pensare proprio come una scala su cui io salgo pensate una scala di gradini con 12 gradini sono arrivati in questo punto che è su cui è una sorta di pianerottolo su cui la scala poi riparte uguale faccio i miei gradini allora l'idea qual è che tra un pianerotto e l'altro è l'ottava e lui dice ma io vorrei ridurre questo passo cioè vorrei fare più gradini più bassi e con questi più gradini devo sempre arrivare devo sempre coprire questa distanza mettiamo che la scala faccia una scala di 10 metri saranno sempre 10 metri prima ci facevo 12 gradini adesso ce ne faccio ce ne faccio 17 io non so non ho il valore 10 metri ma so che ho 12 gradini quindi posso definire questa distanza in termini di gradini prima era 12 gradini e adesso vorrei che 17 gradini coprano 12 gradini questo è il risultato cioè io dico faccio un array di 17 gradini a partire da 0 e quanto deve essere quanto deve essere spesso alto ogni gradino 12 17 perché 12 17 vediamo un po' se non abbiamo sbagliato ovviamente questo è sbagliato io potrei chiamare questo scale e vediamo un po' vediamo un po' che succede alla fine alla fine l'ultimo valore come notate sono a 11 qui sopra di me sono a 11 a qualcosa ed è l'ultimo gradino prima di arrivare a 12 allora questa è una scala temperata di 17 semitoni cioè invece che averne 12 ce ne ho di più quindi sono molto più piccoli e molto strani diciamo per uno cui non è particolarmente abituato e questa volta allora potremmo fare questo e vedere che succede qua se peschiamo a caso dentro scale questa volta cioè questa var frec lo togliamo e diciamo pesca a caso su scale choose scale choose va da 0 a 11 quindi devo scegliere devo spostarlo di 60 cioè di un certo offset perché io qui sono tra 0 e 12 ma sono in midi midi numeri assoluti 60 e il docentrale io voglio partire dal docentrale e poi però devo passare agli hertz quindi devo dire midi 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 cbs allora io ho bisogno del mio synth facciamo un po' di puzia x punto no x sign no r punto play r punto sto allora partiamo 1 2 vediamo un po' che succede qua si qui non si sente particolarmente ma in realtà la scala è un po' diversa ma sto scegliendo a caso amp è un po' troppo radicale allora invece che farlo tra meno 40 lo facciamo solo tra meno 20 e meno 20 è 0 o meno 10 giusto non importa e a questo giro qui invece gliela facciamo eseguire di fila e allora scale i modulo modulo che? modulo scale size perché la mia scala potrà essere variabile adesso sono 17 quindi non è modulo 12 e qui facciamo la scala a salire vediamo un po' che succede cambiamo scale questa volta scale bene possiamo farli qua questa volta scale lo mettiamo qua e diciamo che deve essere fatta queste sono semitoni 12 12 12 questi sono questi sono i nostri semitoni questa diventa una scala di quarti di tono ovviamente ci metti di più perchè mi ha andato e questa è invece una scala di 3 ottavi di tono scala 3 ottavi di tono è interessante perchè oscilla tra le due cioè invece se io ne ho 12 li divido a metà ho 24 e così di quarti di tono se io lo divido per 16 quello che succede è che alterno diciamo un intonato normalmente un tasto del pianoforte e l'altro un tasto che sta a metà allora ad esempio io potrei avere con una roba di questo tipo usiamo questo questo è lui qui glielo facciamo pescare no qui facciamo una cosa cioè diciamo che la nostra routine quello che fa tutte le volte che fa è dice varmel mer deve essere mer deve essere un array fill riempito di melodia di sette altezze in cui da scale choose cioè l'idea è che la routine quando parte costruisce una variabile mel in cui possiamo farcela anche stampare se vogliamo mel.postline in cui costruisce una melodia di sette altezze pescando a caso dalla scala e qui a questo punto vogliamo farci suonare mel più 60 vediamo un po' che cosa succede così apprezziamo un po' la nostra scala qui c'è un problema da qualche parte ah certo ho rotto il synth e quindi il synth non c'è più ci prendiamo il synth e lo mettiamo qua ovviamente io non posso controllare questa operazione però potrei decidere di spostare questo fuori per poterlo controllare in tempo reale allora ad esempio questo lo potrei mettere qui e a questo punto io dico che mel è un array a partire da scale e qui e qui cioè lo sposto fuori in modo tale che il processo continua ad andare e al suo interno fa riferimento a una variabile ambientale che io posso controllare da fuori magari scendiamo un attimo quindi avrei questo questa è la mia scala questa è la mia melodia qui c'è un errore l'errore sta dove no l'errore sta che non lo seleziono tutto mi sento adesso ci possiamo usare questo come interfaccia di controllo lasciate perdere che sono una sinusoide però l'idea questa volta la mia scala tanto potrei cambiare melodia poi potrei cambiare qui lo chiamo num e dico che num è 12 e scale è num e 12 fratto num questa è intonata diciamo questi sono quarti di tono senti che è in mezzo una melodia quarti di tono e voilà quindi l'idea è che ovviamente nel momento in cui io ho dei synth posso tranquillamente controllare quello quello che succede quello che succede all'interno e inserirli in tutti i processi che abbiamo descritto in precedenza sono appunto processi sono appunto processi di controllo ad alto livello quindi possiamo agganciare il controllo diciamo più tipicamente musicale che ci possa servire con i processi di sintesi che sono invece descritti all'interno di una di una sindef allora ovviamente per ora il processo di sintesi è ridotto al lumicino cioè abbiamo solo una sinusoide ma un punto un punto evidentemente interessante è esplorare la quantità di Ugen che abbiamo a disposizione allora le Ugen sono tra l'altro di tipi diversi e io ce l'ho una classificazione che ho preso da Super Collider che dovrei trovare da qualche parte e penso di trovarla ora forse che si forse che no come si dice devo farvela vedere allora ad esempio questa è una classificazione interna delle Ugen fornita da Super Collider stesso come vedete sono di tipi diversi alcune Ugen si comportano diciamo alcune fanno delle cose che ci aspettiamo ad esempio generators generatori di segnali altri si comportano come filtri che è una cosa di cui parleremo poi ci sono dei generatori dei generatori di numeri casuali ci sono dei generatori alcune altre che si occupano di tecniche di sintesi specifiche alcune controllano direttamente dei buffer come vedete altre si occupano di fornire di fare analisi del segnale cioè ci sono gli Ugen che fanno analisi del segnale allora questa è una classificazione diciamo che più o meno riduce quindi l'idea è che io posso avere dei generatori cioè che si occupano di sintetizzare il segnale sia in forma deterministica la nostra sinusoide sia in forma casuale tutti i generatori di rumore alcuni che si occupano invece di elaborare il segnale cioè che prendono alcune Ugen prendono un segnale e lo trasformano e lo ributtano fuori altri si occupano di distribuire il segnale su più canali la cosiddetta spazializzazione del suono noi per ora siamo in mono vedremo presto come si fa essere in stereo ma ci sono molti modi per distribuire il segnale su più altoparlanti o su vari sistemi che controllano la distribuzione del suono e lo spazio anche in funzione della percezione alcune Ugen si occupano di fare analisi cioè io o l'esempio potrebbe essere voglio fare analisi in termini di furie allora potrei avere una Ugen specializzata ce l'ho infatti e indovinate si chiama FFT e questa Ugen faccio in tempo neanche mettere pausa e questa Ugen che si chiama FFT si occupa esattamente di fare analisi FFT ma in tempo reale perché mentre la fa io posso estrarre questi dati di analisi per controllare altre cose conversione da segnali audio segnali di controllo niente da fare Ugen che sono specializzate nel leggere e scrivere buffer che è una cosa interessante e poi ad esempio Ugen che si occupano di generare segnali di inviluppo segnali di inviluppo che vedremo presto sono inviluppi di ampiezza l'inviluppo d'ampiezza è molto importante però la nostra senusoide è una palla clamorosa è sempre uguale ma invece inviluppo indica costruire la possibilità di Ugen che costruiscano dei segnali per avere una forma di controllo su questa storia energetica altre Ugen si occupano di innescare cioè di far partire eventi i cosiddetti triggers altre che si occupano di input output e uno l'abbiamo già vista out è una Ugen di questa famiglia cioè si occupa di gestire l'output altre si potrebbero invece occupare di gestire l'input ad esempio leggere da un microfono da un canale d'ingresso cioè un canale d'ingresso dentro super collider alcune semplicemente recuperano sono in grado di recuperare informazioni recuperare informazioni è un po' diverso da recuperare da recuperare da fare analisi perché analisi vuol dire estrarre un'informazione che non c'è cioè c'è ma io la devo tirare fuori mentre info recupera un'informazione esplicita ad esempio potrei farmi dire da una Ugen se è mono o se è stereo è un dato che si sa non deve essere inferito a differenza invece di un'analisi spettrale e infine altre Ugen si occupano della gestione sono un po' strane si occupano della relazione tra lato server e lato client sotto forma di Ugen come vedremo allora quindi questa è una classificazione che mi sembra riassuntiva e chiara quella che vi fornisce Super Collider non è che non sia chiara ma è molto più molto più dettagliata allora a questo punto che cosa succede beh evidentemente tutto sta i processi di controllo in qualche modo che abbiamo visto ad esempio di aggancio delle interfacce grafiche alla Synth Synth sono sono esattamente quelli che abbiamo visto per controllare altri tipi di azioni cioè sta a voi costruire in vario modo interfacce grafiche e il Synth che tipo di controllo ha beh quello che abbiamo visto non è che ci sono altri Synth nome del parametro valore eventualmente altro nome di un altro parametro altro valore e avanti così questo è quello che si può fare si può fare si possono fare anche delle altre cose nel senso che gli stessi Synth possono essere collegati tra di loro però diciamo l'unità di controllo è quella del Synth e come avete visto io prendo e controllo ad esempio la frequenza del mio oscillatore oppure li inserisco all'interno di processi temporali come la routine che abbiamo visto ed è abbastanza evidente che da quello che sappiamo io posso avere un certo numero estremamente grande di routine task che viaggiano in parallelo così come posso avere un numero di Synth paralleli non è infinito ovviamente perché siamo sul computer ma estremamente elevato in cui sostanzialmente quasi sempre il problema è il limite se avete CPU non se superate un certo numero di eventi paralleli tra l'altro il numero di Synth paralleli allocabili mi pare che sia di default 1024 che mi sembra già un bel numero per essere in parallelo ma potenzialmente lo potete espandere se non siete soddisfatti assumendo che abbiate RAM e CPU a sufficiente allora ad esempio giusto per dirvi io potrei avere un processo un processo come questo non si prendiamo la nostra scala la nostra scala temperata anzi lo facciamo da capo e con questo chiudiamo oggi l'idea è che io potrei avere una scala fatta così la mia scala potrebbe essere 0 2 facciamo scala minore 5 7 2 2 3 5 7 8 10 questa è la mia scala poi potrei avere una l'idea è che potrei avere una routine R una routine R fatta in questo modo molto semplice che si prende infinite volte vedete che è comodo infinito perché uno lancia un processo quello va per conto proprio argomento i è il numero di volte e copiamocelo di qua potrei avere un mio synth e il mio synth quello che fa è di leggere in questo caso scale i scale io qui più 60 e allora questo legge la mia scala poi ho bisogno di creare il mio synth che si chiama x che è synth e lanciare la mia routine un po' sì certo allora qui ho un synth uno solo si comporta come qui la vicenda è più musicale la scaletta qui io ho una routine che ha questo suo synth e lo genera io tra l'altro notate che devo scegliere dove voglio stare cioè io potrei anche mettere qui dire che x è un synth interno x è un synth interno vuol dire che x da fuori non lo controllo però il mio processo quando parte si crea il proprio synth che non può essere controllato da fuori ma non può neanche essere disturbato da fuori e lui e se lo controlla allora ad esempio vedete io posso fare così la routine parte generando un synth e poi controllando l'infinite volte allora ad esempio dunque io potrei fare una cosa di questo tipo e dire per dire che a è un array fill no beh lo generiamo qua facciamo 4 e con cosa lo riempiamo questo array e facciamo un array di routine una roba che abbiamo già fatto ci piace è bello divertente e lo facciamo e qui avremo un contatore che chiamiamo cnt e gli diciamo che cnt più 1 per mettiamo tra parentesi giusto per così cioè io sto costruendo un array di routine parametrizzato che è una roba che abbiamo fatto 40 volte ormai quindi dovrebbe essere leggibile per voi questo array crea un synth di tipo sign notate che var x lui dice ma non c'è sempre x in giro no perché var è dichiarato dentro questa funzione quindi vale solo lì dentro e lui dovrà beh ad esempio potrebbe decidere di cambiare questo e farà 60 più 60 più beh più 60 va bene più 12 per cnt e e basta a questo punto io ho il mio processo qua vediamo un po' la cosa a cui dobbiamo stare attenti è che non dobbiamo esagerare con amp allora facciamo così questa arriva da meno 10 al massimo e parte da meno 20 per evitare di avere troppi eventi paralleli faremo un ragionamento a.du arg art 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 Questo è quello che succede sul nostro server Questo è il segnale audio Andiamo a vedere cosa succede Qui vediamo le componenti che vengono aggiunte Questo è logaritmico Ci dà un'idea di pitch Partiamo di qua Vedete i 4 synth paralleli Ovviamente sono a livello di intervallo d'ottava apposta Così si incrociano per bene Ovviamente l'idea qua è che io potrei anche Potrei anche X set E out Ad esempio Non ho un buon criterio Però non so controllare la posizione So solo swappare Diciamo saltare Che brutto termine Saltare da un all'altro 0.1 No 0.1 Punto choose Cioè lo facciamo in questa sorta di effetto stereo Però Però a questo giro Facciamo così Facciamo un po' gli esagerati Ma forse non mi cercherei legare Adesso facciamo otto voci E lo facciamo saltare Facciamo saltare Qui vediamo un canale solo E quindi ne vediamo sempre 4 Notate Cioè qui lo scope ci fa vedere i due canali Che sono diversi Perché io faccio saltare uno Da uno all'altro Quindi ogni tanto sarà da uno A poi dall'altro Qualche clic E qui invece io Per forza di cose Faccio l'analisi di un canale Per cui ne vedo sempre Al massimo 4 Statisticamente Perché lui sceglie a caso Quindi teoricamente In un certo momento Potrebbero essere scelte Tutte 8 Su un singolo canale Per solo che È molto improbabile Statisticamente Di media ce ne stanno 4 canali La vicenda si fa già abbastanza Interessante Anche solo con delle stupide sinusoidi Tra virgolette E tra l'altro Scale è qua Questo fatto è interessante Perché se scale è qua Io potrei Andare su una roba Tipo 3,5 6 Questo è il passaggio Andiamo su un maggiore 4,5 6,7 Questo è un passaggio cromatico Qua finisco in maggiore Praticamente Questa invece è maggiore Entrata la terza maggiore Questa è una scala Cioè tutte le voci viaggiano Tassi diversi Ma io potrei permutarla Oppure io mi diverto a mettere Dei famosi quarti di tono Ma non li metto tutti Ce ne metto qualcuno Tipo questa qua Interessante Perché è la Anzi no Questa è più interessante Questa è una terza mista Cioè tra maggiore e minore E quindi io qua Potrei riragionare Per sentire come suona Il mio amico qua Potrei riragionare qui E sono in tempo reale C'è un esempio Dico Questa scala A 17 No A questo punto Il mio scale Ho fatto un po' Una roba un po' Sbagliata Perché scale Mi serve Quindi in realtà Mi conviene Io riparto di qua E dico che Scale Deve essere questo Questo è un array E io gli dico Beh lo chiamo in un altro modo Lo chiamo Skll Ok E qua ci siamo A questo punto qua Lo chiamo scale E gli dico scale Deve essere Scegli le 7 Da lì No Questo non c'è Ma questo c'è Siamo già sullo psichedelico Scala temperata Di 17 Ma io potrei fare anche Una roba un po' Giavanese Cioè ad esempio Voglio 5 Una scala di 5 Cioè 5 gradoni Ma grossi Come succede Un po' a Java Questa è un po' Giavanese Stessa scala Nuova melodia Giusto? Sì Giusto Che è 12 gradini Ma io ne faccio solo 7 7 ma spaziate uguali Quindi scala temperata Di 7 valori Un'altra E poi siccome sono romanticone Torno sulla minora naturale Che è quella di prima Poi siccome mi sono stufato E ho tutte le sinusoide che viaggiano in parallelo ovviamente Perché io non avevo N Non producevo Producevo note a partire da strumenti che funzionano Qui vedete quello che succede Queste sono quelle sul bass 0 Ma io voglio vedere il bass 1 E sono queste qua Stop Quindi Questa è un po' l'idea Per mettere insieme composizione E sintesi Ovviamente sintesi per ora Abbiamo un prodotto Semplici sinusoidi Ma Questi strumenti si possono complessificare E chiaramente Rimane la possibilità del controllo Che abbiamo visto prima Allora la prossima volta Aumentiamo il controllo